118 lavoratori in cassa integrazione straordinaria per 12 mesi. E' questo il contenuto dell'accordo siglato ieri in provincia dopo ore di trattative tra i sindacati e i rappresentanti della Pantoserramenti di San Biagio di Callalta. L'appuntamento che avevamo ieri in provincia di Treviso con l'assessore Noale era proprio più che altro una riunione tecnica per mettere a punto il discorso della cassa integrazione straordinaria. Il verbale che abbiamo puntualmente firmato che prevede la cassa integrazione straordinaria per liquidazione della società per tutti quanti i dipendenti. A deludere i sindacati però il nuovo business plan. Nessun elemento di novità rispetto alla creazione di una nuova società disposta ad assumere solo una parte dei dipendenti. Noi abbiamo continuato a insistere con la nostra proposta che è quella di dare una possibilità di lavoro a tutti i dipendenti anche con sfruttamento degli ammortizzatori sociali, cioè un contratto di solidarietà, lavorare tutti i dipendenti anche se non 5 giorni a settimana, qualche giorno meno. Però dall'altra parte del tavolo continuano a dirci di no, continuano a dirci che noi vogliamo costituire una nuova società, che ancora non si capisce che tipo di società, con quali soci o con quali finalità. Noi soprattutto per il funzionamento stesso dell'azienda riteniamo che debbano lavorare tutti quanti. La linea di montaggio è messa in un tale sistema che o si lavora tutti, se no il rischio è che non si riesce neanche andare avanti nella produzione.